Sisalpoker.it, Real Poker, Real Fun 2 anni e mezzo, 4 anni Volevo barare Volevo barare Ti conosco come Roby Baggio Ce ne sono un sacco i Roby Baggio Sai quello che assomiglia di più? Così dicono Il vero Roby Baggio va molto a pesca in Argentina Tu vai a pescare in Argentina anche tu? No, io preferisco sul serio andare a pescare Ah, sul serio? Nella mia valle Nella sua valle Allora in bocca al lupo Per il giorno 2 Del quale spero di esserci anch'io Speriamo! Saluto, ciao Soporker